Oggi Panzerotti Con la crema al cioccolato Quando c'è più una ricetta Solo una formula è perfetta Se vuoi vivere con gusto Due cuore e una cappa È il posto giusto Ciao a tutti e benvenuti qui Nella nostra cucina virtuale Come state ragazzi? Oggi ho visto la mia forma sferica Soprattutto la mia No tu non sei sferica, sei dolce Io pallina funghetto Allora ciao a tutti Oggi mi sono cimentata In uno dei pezzi da colazione Più famosi di Catania Ragazzi che siete fuori Catania Ragazzi all'estero Studenti fuori sede Arrivano i Panzerotti Quelli buoni Perché me li ha dati La ricetta me l'ha data la migliore pasticceria di Catania E sono venuti Come sono venuti? Buonissimi Buonissimi E non è merito mio Io ho solo eseguito Dai la crema è merito tuo Dai la crema è merito tuo Dai E allora Basta sempre parlare di strontate Andiamoli a fare Vabbè Sugli ingredienti Per la crema di cioccolato 130 grammi di cacao amaro Dai 150 ai 200 grammi di zucchero Questo dovete deciderlo voi A seconda di quanto intenso vogliate sia il sapore di cacao 750 grammi di latte Tutto il latte di cui vi ho parlato in questa ricetta è parzialmente scremato ma sostituibile anche con il latte intero Sostituibile anche con i latti vegetali 45 grammi di amido di mais Un pizzico di sale E una bustina di vanillina La metterò anche nella crema Iniziamo subito Innanzitutto ci occorreranno 500 grammi di farina per creare la frolla dei nostri panzerotti 150 grammi di burro Che inserirò sfiocchettandolo 3 tuorli d'uovo 180 grammi di zucchero 130 grammi di latte Una bustina di vanillina Gancio a foglia in planetaria oppure manine sante in pasta in pasta in pasta Vediamo anche il coperchio Velocità 1 Facciamo amalgamare insieme tutti gli ingredienti finché non viene fuori una pasta ricciola ricciola Tutta grumini Ora metto il coperchio E faccio andare leggermente più veloce Ok siamo pronti La pasta si è attaccata a tutta il gancio Vuol dire che ha fatto panetto E adesso in freezer per 10 minuti Panetto All'interno di un pentolino Versiamo il cacao L'amido E lo zucchero Questa è la tua crema? Questa è la mia crema E mescoliamo tutto bene insieme Mettiamo anche una bustina di vanillina Se avete la vaniglia preferitela sempre Io oggi non ne avevo E va bene E verso a poco a poco I 750 grammi di latte Mescolandoli appunto Non tutti alla volta In modo da evitare i grumi Sempre con fiamma spenta Certo Sempre a freddo Una volta aggiunto tutto il latte Accendiamo la fonte di calore E facciamola addensare Se non siete sicuri della ricetta Assaggiate il preparato Per vedere se è dell'intensità di dolcezza Che vi piace E mescolate Finché la crema non si addensa Dopo qualche minuto La crema si addenserà Vedete? Adesso voi continuate a mescolare Facendo attenzione a non farla attaccare sul fondo E quando sentirete una bella resistenza Alla vostra frusta Staccherete la fonte di calore Eccola qua Guardate che bella Super cioccolatosa Super super nera Io la faccio stringere Faccio agire ancora un po' l'amino Ok E adesso Stop Ma continuo A girare Rigirare Bene Facciamo raffreddare un po' con la crema Quindi copriamola con della pellicola E facciamola riposare Per un po' Quello che avremo sarà questa bella frolla Ben lavorata e soda Prendo della farina Ecco spargo il piano da lavoro Scaravolto Mi dai? Il mio bel panetto Con un mattarello Adesso stendo la mia frolla Spessa all'incirca mezzo centimetro Prendo la mia crema Che avrò lasciato rapprendere in frigo Per tre orette Quindi la crema deve essere bella fredda E bella soda E prendo anche due coppa pasta Uno un po' più piccolo E uno un po' più grande Allora coppo da prima Il più piccolo Così E faccio cinque di questi dischetti Uno Cinque E sei Quindi coppo anche sei dischetti più grandi Uno Adesso per aiutarmi Io userò uno stampo a cupolina Se voi non ce lo avete Non vi preoccupate Potete usare anche la teglia per muffin Serve giusto per aiutarvi a dare la forma del panzerotto Cosa faccio? Prendo un dischetto di quelli più grandi E lo appiattisco Ancora un po' Perché la frolla del panzerotto Ha questa caratteristica Di essere elastica In quanto lievitata Ma molto sottile Quindi lo inserisco qua All'interno Ecco qua E gli do la forma A cupolina Prendo una cucchiaiata Di cioccolato E la verso dentro Batto ben bene Prendo un dischetto Lo poggio Saldo ben bene i lembi Che tiro un po' fuori Lo rigiro un attimo Ricoppo Il mio Panzerotto Voilà E lo metto di nuovo In forma Così Un attimino Prima di Dammi la teglia Poggiarlo Sulla mia Leccarda Voilà Ecco il mio panzerotto E adesso In freezer Per 10 minuti Poggiarlo 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 portiamo la temperatura 180 fino a fine cottura e aspettiamo che la doratura sia ultimata ed ecco tutti i nostri panzerotti sono bellissimi 18 perché qua ce ne sono altri due è questa è la pasta che è avanzata quindi con mezzo chilo di farina mezzo litro di crema vengono ben 18 buonissimi panzerotti li ho messi tutti sulla teglia per farveli vedere questi sono gli ultimi che ho tirato fuori dal forno adesso vi faccio vedere com'è il panzerotto al suo interno prendiamo la pasta guardate risulta dura all'interno all'esterno e all'interno bello farcito di crema al cacao adesso però dobbiamo provare com'è manca solo l'ultimo passaggio vanno ricoperti di zucchero a velo adesso Gabriele fai vedere fa la prova assaggia dici sono loro e allora per tutti gli amici che stanno all'estero per tutti i catanesi fuori sede ecco la ricetta del panzerotto che mi è stata data dal pasticcere della migliore pasticceria di catania andate e preparate e vedrete che bontà bene adesso vi lascia le foto e noi ci vediamo dopo bene avete visto come è semplice fare un panzerotto è simpatico è facile ora ognuno di voi magari nelle regioni soprattutto del sud avranno qualche cosa di similare chiamato sicuramente c'è il coso come si chiama il pasticciotto a bari con la crema il pasticciotto bene bene mandateci le vostre varianti fateci capire fateci conoscere tutto per essere panzerotto catanese così a cupolina al cioccolato a cupolina con la pallina sopra alla crema bianca basta farcirlo con una normalissima crema bianca la pallina è sempre di pasta frolla si si sopra dovete mettere una pallina di pasta frolla per distinguerli da noi distinguono quelli tutti lisci sono al cioccolato quelli con la pallina sono alla crema e di di recente nascita circa 15 anni sono cominciati a resistere anche i panzerotti alla ricotta hanno una forma leggermente più squadrata però è un po più difficile ostico perché col fatto che contiene acqua molta acqua la ricotta quindi è facile per i puristi i catanesi siamo puristi crema cioccolato crema bianca devo dire che a catania piace di più forse quello alla crema bianca a me il mio preferito è quello alla crema bianca ma quale non mangia crema bianca ma io non mangio crema bianca quindi come avrete visto su arte per te tutti i dolci sono al cioccolato vabbè passerò alla crema bianca e allora ragazzi pollice in su condividete per fare arrivare questo video a tutte le persone che sono fuori catania e che vogliono tanto riassaporare qualcosa della loro terra bene noi ci vediamo sempre qui per un prossimo video sulle vostre tavole sempre ciao